ragazzi buongiorno a tutti sempre dall'uplevel c'è stato qualcuno mi ha chiesto qual è l'uplevel di napoli se volete allenare scegliete solo i centri migliori un'altra cosa che vi voglio dire che poi sono sempre le solite cose che mi fate dire se io faccio un video della palestra dove mi alleno e voi sotto un video mi chiedete se mi saluti? allora partiamo dal fatto che se non sapete stare sui social non vi mettete sui social perché non fanno anche voi i social perché continuo a dire questo danno perché se faccio il video dove mi alleno come questo e mi chiedete a Peppe mi saluti? mi sapete dire che cavolo c'entra il saluto a quello video della palestra? non ci azzecca proprio niente voi dovete imparare se volete stare sui social a fare i commenti giusti nei video giusti cioè non è che fate i commenti a capa di cavolo cioè che non c'entrano niente col video poi ci dovete fare i commenti sui video non è a dire se mi saluti oppure a preparare un dolce per dire se mi saluti a che cavolo c'entra il video del dolce che mi viene a dire se mi saluti? non c'entra assolutissimamente niente perciò dovete fare i commenti giusti sui video giusti e non a commenti che non c'entrano niente con i video ok? ciao ciao al prossimo video